Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Biglio, cresciuto nel nostro settore giovanile e da 2011 allenatore della nostra scuola calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Ripose in pace, Patrizio. Con questo tweet il Milan ha voluto ricordare l'ex calciatore montebellunese Patrizio Biglio, 48 anni, prematuramente scomparso ieri per un arresto cardiaco mentre stava giocando a padel. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di alcuni amici che erano con lui a Kuwait City, dove l'allenatore viveva insieme alla moglie e al figlio. Il calcio entra a far parte della vita di Patrizio sin da quando è piccolo, cresciuto nelle giovanili del Montebelluna, viene poi ingaggiato dal Milan. La sua carriera di calciatore lo porta a militare nel Monza, nel Lancone e successivamente in diverse squadre della Gran Bretagna. Da 2011 diventa responsabile della scuola calcio Milan in Kuwait. La scorsa estate collabora come direttore tecnico al Milan Summer Camp di Cortina d'Ampezzo, al suo fianco l'ex giocatore e allenatore Diego Bortoluzzi. Quello che faceva era sempre molto allegro, divertito e divertente. Aveva un gran bel entusiasmo che sapeva trasmettere ai ragazzi e anche tra di noi e anche tra i miei colleghi. Qualche settimana fa Biglio aveva avuto dei contatti telefonici per il Milan Summer Camp. In programma quest'anno tra giugno e luglio sempre a Cortina e stava lavorando a questo insieme a Pietro Viercovud. Avevamo in programma di passare due settimane quest'anno a Cortina, purtroppo così non potrà essere. Il dispiacere è forte a una persona giovane, soprattutto che lascia ovviamente la cosa senza parole.